Oh, basta, vi prego, vi prego, basta, basta Questa notte non ho dormito, ma è domenica, siamo 5-2, sì, seguirò il tuo consiglio Weekend League senza tiltare, ma se questo video supererà 15.000 mi piace Tornerà la Weekend League a tema, e voi sceglierete cosa fare Ripeto, questa notte non ho dormito Non dovrei farlo, lo so, lo so, che voglio dare un'ultima possibilità, ok? Ho perso la prima, ho beccato il pazzo sgravato, vabbè, se non si poteva fare niente E l'altra che ho perso, vabbè, gol al novantesimo, lui non era più forte di me, non ha fatto niente di più di me Questa è la formazione, e voi direte, endo sta Barnes, panca, dove dovrebbe essere? Allora, prima partita contro Real Madrid, perfetto Van Dijk, Lucio, Budeja, Budon Mati, Vinicius, Rafinha e Hansen Quo Bellingham, vabbè ragazzi, che cazzo squadra è? Ma dai, mi porco due Nel senso, io vorrei pure Fa, vabbè No, no, questo fa pure, fa pure il trick, c'ho capito Capito chi è me beccato, ragazzi? Questo stava già a usare Bravo Eh, mannaggia Stava usando già la sbagata Che fa gol, cioè, nel senso Guarda me nonna che male ha presa Ragazzi Sìi Eh, vabbè, 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 ragazzi Ma, allora, io ho capito qual è il problema E che se io registro questi video Come se fossero Dei video di intrattenimento Non è La cosa giusta, perché questi sono I video in cui bisogna Trayardare come dei pazzi Bravo, bravo E vabbè, raga, ma Bandai che è impossibile Dai, brava Uff Dai, Mad Rosso Con molto rispetto, con molto rispetto Dai, McMahonman, pensaci tu Madaglia, ha tirato in faccia quest'altro Ce l'avevi, Lea, ci ha messo una giornata, mannaggia Se m'era entrato così, era blu Oh, ma chi è questo, Speedy Gonzales? No, oh no, eccoci qua Eccoci qua Allora ragazzi, non avrete visto niente perché io ho fatto pochissimi tiri Penso lui meno di me È una partita Ah no, lui l'ha fatto proprio uno È una partita fracica, cioè proprio la classica partita che non vuoi incontrare in Weekend League Eccoci qua Oh, io l'ho presa Godopoli Vai Dai, che l'abbiamo circunnavigato, no? L'ultimo passaggio Abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio Vabbè, ma Iorente è un cane, ragazzi Ha fatto la prima volta Quello che gli ho visto a Iorente sempre contro di me Eeeh Faccio di rigore Che matavevo rigore? Questo non è mai rigore, eh Ragazzi, i rigori si sbagliano Non ci posso fare niente Allora, metto Neymar E si spera Cavolo, ragazzi, me l'aveva un po' inventato, secondo me L'occasione ce l'abbiamo avuta Nooo Eccoci qua Eccoci qua Sbaglia l'uscita, goal E vabbè Ragazzi Vabbè, ormai sono saltato gli schemi Oh Com'è possibile? Perché l'ha lasciato? E vabbè La prima è dei bolletti, ragazzi Lo sappiamo Ho sbagliato Cioè, questo ha fatto 4 tiri Posso speggere le luci, ragazzi? Ma vedete lo stesso? Farà schifo Ma va bene lo stesso Senza tiltare Ma l'ho buttata Ora Facciamo che questa è la prima partita Perché Le altre C'è una streak De tre sconfitte Con secudie Vabbè 340 Goal Vabbè Con la faccia La presa La presa Con la faccia Ok Va bene Steve McManaman Steve Che fa esattamente Quello Che Rafinha Non è in grado di fare Bravo Eh Lo so Eh L'ho sbagliato Che lo faccio a fallo pure io Il gol della Guarda la palla Che è cancellata Avete visto? La palla accelerata La palla accelerata Per andarsene via da me No 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 Così no Dai Dai Bremer Però chiudila Chiudila Bremer Dai Dai ragazzi Ma non c'è Non c'è speranza Non ho speranza Guarda che non mi ha selezionato il giocatore Meno male Non mi ha selezionato il giocatore davanti Uuuuuh No 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 Ragazzi Dai Un cazzo di passaggio Questi Mi entrano A scanso della banda Bravo Duram Bravo Duram Bravo Duram Eh vabbè Io non lo so fare il gol della merda ragazzi Io non lo so fare Bravo Marcus Bravo Eh no questa me mancava ragazzi Questa me mancava Vedete il mio giocatore che leva palla al mio giocatore Gado Gado Dai ragazzi Dai Dai ragazzi Dai Prima win Ce l'abbiamo fatta Abbiamo dovuto sudare letteralmente sette camice Niente ragazzi Non si può segnare Niente Eccoci Allora ragazzi Adesso concentrati Cioè davvero Basta Adesso veramente basta Su No dai No vabbè dai Oh e fammi gol Su Su Vai Cioè Non lo so Rosso 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 Guarda 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 Rosso Rosso Oh Anche lo vedo Non te l'ho messo il giocatore Eccoci Madonna mia ragazzi Ma che cazzo Ho detto senza tiltare Ma pensavo così Oh No Ragazzi Io basta Dai non gioco più Dai Non gioco più ragazzi Dai Se mole ha o se mangio a sto gol Guardi proprio che non Se deve più giocare Ragazzi Come te lo stai mangiato Come Guarda A me mi segnano in tutti i modi Al primo tiro In tutti i modi mi segnano Il primo tiro Basta Vi prego Vi prego Basta Basta Vi prego La partita umana Vi chiedo Mica Mica tutte Tutte Certamente Ho fatto 77 tiri Non so più che altro fare Sinceramente Eh vabbè dai Fammi entra una ragazzi Che sofferenza inaudita Che sofferenza inaudita Che è successo Che è successo Tra l'altro Gli ha tirato una saracca De testa Che non si spiega Gli ha dovuto piegare le mani Con un colpo di testa Però aspettate ragazzi Aspettate il kick off No io non ho Non so Non so che dire Bons 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 Il signor Bons Oh Ragazzi Leao C'è quella Fisk Quella Frisk Come si chiama Oh R2 R2 Ecco il che non funziona Raga Guarda R2 Tu dici perché perdi Non lo so Sto a spingere R2 Da un'ora E non è successo niente E vai Ma let's go Ah ce la siamo portate a casa Sì non devo tiltare Ma non so che è successo Comunque le devo vincere tutte e due Queste qui Allora vediamo un po' Se è umano Punjabi Vicario in porta Gattiva run Oh ma 436 gol Posa il pad Amico mi Posa il pad Beh questo ragazzi È buono Perché comunque C'ha C'ha giocatori sbloccati Ecco Dai no fino in fondo Lo so che sei italiano Lo so che sei italiano Tu non giocheresti con Vicario Vabbè oh però Dai su No vabbè dai però Te giuro Te giuro Ragazzi te giuro A me Quegli interventi Non me li fanno Cosa cazzo vi dovrei dire Cosa cazzo vi dovrei dire Cosa cazzo vi dovrei dire E vabbè No Eh vabbè Godo Godo Barnes Godo Ho fatto due tiri Siamo al 62 Siamo fatto due tiri In porta Due Due ne ha fatti due Non lo cacci Se non lo cacci Da che deve fare di più Niente Vabbè Guarda qua Ci ho pensato No Bremer Niente Manco Bremer Va bene Passato Niente Vabbè da lì era un po' sì Possibile era veramente E vabbè ragazzi Cioè Sono sempre stato toccato All'ultimo secondo Prima del tiro Da Da cpu Niente da fare Non lo caccia tanto Non lo caccia Eeeh Ebbè non si può Fa così Dai non si può Fa così Godo 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 Oh Questa raga Non me la meritavo mai di perderla Mai di perderla Guarda Veramente Mi dispiace ma Ad intercutei I scavetti tuoi Ci siamo ragazzi E' l'ultima partita Quella decisiva Quella che devo vincere I miei figli Sono tornati O no Tutto me importa Cordoba addirittura De Bru In Olanda Devo controllare però I primi proprietari E via Vabbè Vai Si va ragazzi Che magari potrebbe essere Solo uno Semplicemente molto sculato Non credo No Ecco L'errore nel passaggio E Non ci credo Vabbè ragazzi La storia della mia vita Story of my life Oh Oh Ragazzi Io più imposto Cambio le impostazioni E qua più Non si cambia niente No 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 Non voglio giocare così Ragazzi Non voglio giocare contro Cioè Questa gente Eh Questa roba no Aiuto Aiuto Bravo Un grossissimo rischio McManaman Qua McManaman Uh Cordoba Come è uscito Eh ragazzi Questo spamma solo Filtranti Come funziona Non è fuori gioco Bello Come fai Adesso fuori gioco Porco Due ragazzi E mo E mo si E adesso si Rafinha Ce l'ha fatta Che famo Aiuto 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 Panico 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 Eh Oh No Ok Ma che sta succedendo Che sta succedendo Ragazzi Che sta succedendo No No Player lock Va bene Va bene Va bene Spazza sta palla Via Lontano Rigore Rigore No Ma tutti Rigore Ho sbagliato Mannaggia Cristina Davena Caspita Era importante Andata sul 2-0 Sta giocando In una maniera diversa Rispetto Tanti che ho beccato Che giocano tutti uguali Con gli scavetti Abusa Forse del tipo L1 R1 Triangolo Dai Tram Oh Faligname No Ancora buona Ancora buona Ancora buona No Vabbè Niente ragazzi Io so destinato A dover A dovermele sudare D'altronde Sono della Lazio Il massimo Che posso fare E mettere Barnes Al posto De McManaman Ragazzi Non ci posso Mai credere Stavo registrando Perché questa era La partita Quella decisiva Ho finito Spazio sul computer Tra l'altro Prestazione Sontuosa Di Barnes Che entra Al secondo tempo Te fa tripletta Vabbè Comunque ho fatto 9 vittorie Che era quello Che volevo Questa settimana Ero partito Benissimo E poi l'ho L'ho Sminchiata Vabbè Però ci abbiamo Un eroe Provamo niente Ragazzi Insomma Sta tryhardata A cosa Ci ha portato Quasi non ho tiltato Io partirei Con 15 giocatori 81 Più Fammi vedere Che ne valsa la pena Perfetto Manco Qualca Difensore centrale Masticavoli Della liga Ah Gimenez 83 Bello 15 giocatori 81 Più Il più grande 83 Vabbè Non mi aspettavo Niente di diverso Sinceramente Ne valsa la pena Sì sì No no Per favore Almeno un walk out Ti chiedo È donna Non mi importa Manco walk out Non è vita Non è vita Non è vita Questa Non è vita Non è vita Per niente Il terzino sinistro Del Chelsea Chi è Ma che me ne frega Di bro Ah bronze Siamo andata dal Chelsea Non gioca col Barcellona Mi interessa Sinceramente A meno che non c'è più De un 85 Un 85 Un 84 E tutta merda Dai Adesso Deve essere buono Walk out Portiere Io se li vedo grossi Sono portieri Ma i Sommer Non è Ah no Ah no Non è Sommer È del BVB Cobble 88 Guardalo Guardalo Guarda che pazzo Guarda che pazzo Tu pazzo Team of the week Vai Manco walk out Persino destro Olandese Ah Doomfries Vabbè Se posso dire Per la serie A Va bene Per la mia serie A Va bene Dovevo dire ragazzi Che però Per il momento Non è mai Valsa la pena Cioè C'è uscito Un solo walk out Adesso ci riesce Per forza Perché È un 87 E più È un portiere Perfetto Ah no Un CC Oh KDB Eh Vabbè Ovviamente Ovviamente Quando esce Dal team Arriva KDB 90 Però vabbè Dai Pure lui Dice Oh datemi la palla Che c'è scureggio sopra Ecco qua Un po' Un po' De merda Addosso Vai FIFA EA Sports In the game È una donna No CC Spagnolo della liga Chi è? CC Spagnolo della liga Non ho idea Ah Ah Goody Azz Vabbè Certo Ho detto È una donna Però sai che Goody CoC Non deve far proprio Troppo schifo Però lui dice Aspetta che c'è Scacazzo addosso Cioè sarà sicuramente Meglio De McManaman No Goody Azz Un altro Del Real Madrid Oh se ci pensate Ragazzi Diciamo quelli Decenti Due Del Real Goody Azz Grande giocatore Goody Goody Fomenta Non ne vale mai La pena Sinceramente